La governance della scuola nelle riforme della pubblica amministrazione, parte seconda. Ecco, la linea politica del nuovo governo di centrodestra con la Letizia Moratti come ministra dell'istruzione fu chiaramente indicata negli stati generali sull'istruzione che si svolsero a Roma nel dicembre del 2001 dove appare evidente l'inversione di rotta rispetto al governo di centrosinistra. Le idee di fondo dei progetti del centrodestra iniziate dalla Moratti e completate poi dalla Gelmini si possono sintetizzare nella volontà di ridimensionare gli interventi dello Stato nelle politiche sulla formazione in nome della libertà di scelta delle famiglie e della libera concorrenza tra scuola pubblica e scuola privata. Per il centrodestra la scuola ha un costo eccessivo, ci sono troppi insegnanti, troppi sprechi e soprattutto le ore di scuola settimanali sono troppe. Da qui la necessità di semplificare e riordinare l'intero sistema dell'istruzione riducendo progressivamente le risorse finanziarie da destinare ai progetti al tempo prolungato e al tempo pieno. Viene varata quindi la legge 53 del 2003 che abroga la 30 del 2000 che si prefigge di adattare la scuola alle attese del mondo del lavoro con le famose 3i inglese informatica impresa e sul piano didattico sul modello personalista riconoscendo alla persona un ruolo centrale ponendo le istituzioni scolastiche al suo servizio, questa impronta cattolica della riforma Moratti. Il sistema dell'istruzione professionale si distanziava da quello liceale sul modello duale, ad esempio tedesco, e diventava di competenza regionale. Si stabiliva un sistema di alternanza scuola-lavoro le cui esperienze da svolgere nel mondo del lavoro sarebbero state valutate come un percorso didattico. Al termine dei primi tre anni di istruzione professionale l'alunno conseguiva un diploma di qualifica con la frequenza del quarto anno la qualifica quadriennale. Qualora invece avesse voluto accedere all'università l'alunno poteva frequentare un quinto anno e sostenere l'esame di Stato con lo stesso valore di quello del sistema dei dicemi. Un altro cambiamento importante di questi anni è stata l'introduzione dei testi invalsi ancora oggi, come ben sappiamo, in vigore. L'obbligo scolastico è scesa a 14 anni, anche se il cambio di governo e l'insediamento di Castero Fioroni nel 2006 lo riportò rapidamente a 16. Il decreto legislativo 150 del 2009 traduce in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella legge delega 15 del 2009 che ha impostato una profonda revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione. L'asse di questa riforma è la forte accentuazione della selettività nell'attribuzione degli incentivi economici e di carriera, il tutto in un contesto di piena affermazione di quella cultura della valutazione che l'Italia aveva già affrontato nel passato. Il decreto prevede l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento della prestazione dei servizi resi. Il ciclo di gestione della performance offre un quadro di azione che realizza il passaggio dalla cultura di mezzi, cioè degli input, a quella dei risultati, gli output o gli outcome auspicato dalle riforme precedenti. Ecco, l'implementazione di questo nuovo ciclo di gestione delle performance si ripercuote sul rapporto con il personale attraverso il sistema premiante e sul rapporto col pubblico attraverso la customer satisfaction e la trasparenza. Ora, vediamo come il decreto espunga dalla contrattazione collettiva alcune materie. Quindi, alle disposizioni concernenti gli strumenti premiali viene attribuito carattere imperativo, quindi queste non possono essere derogate alla contrattazione collettiva se non nei limiti inseriti nei contratti. L'inserimento della customer satisfaction come dimensione della valutazione stabilisce di fatto il rapporto con l'utente come criterio e strumento di miglioramento della performance. Attraverso il programma triennale per la trasparenza, ogni amministrazione consolida il dialogo con i cittadini e i principali soggetti interessati sia in fase di programmazione che in fase di rendicontazione. Quindi, queste nuove disposizioni fondano un legame forte tra la contrattazione decentrata, la valutazione e la premialità. In particolare viene rafforzato, ecco abbiamo detto prima, in coerenza con il settore privato, il condizionamento della contrattazione decentrata e quindi della retribuzione accessoria all'effettivo conseguimento di risultati programmati e di risparmi di gestione. La contrattazione integrativa sarà comunque sottoposta a vincoli di spesa cogenti definiti dalla contrattazione nazionale sulla base degli obiettivi e delle compatibilità di finanza pubblica. Le amministrazioni locali possono eventualmente aggiungere risorse proprie a quelle definite dalla contrattazione nazionale a favore di quella integrativa, ma sempre nel rispetto dei limiti indicati dal decreto. Quindi, per le principali linee di intervento sono l'ampliamento delle competenze dei dirigenti, sia nei processi di valutazione del personale, sia nelle procedure di mobilità con riguardo al personale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero. Inoltre viene riordinata la disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali regolando il rapporto fra gli organi di vertice e i dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo. I comparti di contrattazione vengono ristretti a quattro, a cui corrispondono quattro aree dirigenziali. Si giunge appunto a separare, ad individuare le quattro aree solamente nel luglio del 2016, quindi per quanto riguarda la scuola, la scuola che è il comparto più numeroso, quindi il comparto delle istruzioni della ricerca, affiancato dal comparto della sanità, da quello delle funzioni locali e da quello delle funzioni centrali. La legge 133 del 2008. Nel 2008 appunto il nuovo governo di centrodestra continua l'opera di ridimensionamento degli investimenti sulla scuola pubblica avviato dalla Moratti. Con la legge 133 Tremonti e Gelmini avviano una vasta operazione di realizzazione del sistema di istruzione, tagliando 8 miliardi di euro sul numero delle cattedre e sul tempo scuola. Gelmini ha operato da un lato sulla scuola primaria, con una serie di interventi tesi a ripristinare un modello di scuola tradizionale, con il ritorno ai voti numerici, che erano stati abrogati dalla legge 517 del 77, col maestro l'unico, e invece dall'altro lato sulla scuola secondaria di secondo grado, rispolverando la legge Moratti e rivedendo tutti i curricoli. Anche il personale ATA subisce tagli del 17%. Quindi qua lo vedete, e i nuovi curricoli, quindi si provvede a una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, attenendosi ai seguenti criteri, che sono quelli di formazione di classi più numerose, riduzione degli organici, riduzione dei plessi e degli istituti scolastici. Quello che colpisce particolarmente la scuola secondaria è la saturazione di tutte le cattedre a 18 ore, l'accorpamento delle classi di concorso, e per la secondaria di secondo grado la riduzione da 32 a 29 ore, con il taglio delle compresenze con i docenti tecnico-pratici. Con la fase Renzi-Madia, ci occuperemo solamente delle riforme della pubblica amministrazione in quanto la legge 107 e sue relative deloghe avrebbe bisogno di un'altra serie di slide abbastanza corposa. Va bene, che cos'è questa legge delega 124 del 2015? Questa legge è costituita da 23 articoli così divisi. Dagli articoli 1-7 sono previste semplificazioni amministrative. 8-10 l'organizzazione della pubblica amministrazione. 11-15 riguarda il personale e gli articoli 16-23 deleghe, quindi le deleghe per la semplificazione amministrativa di queste 14 deleghe, tra cui la dirigenza pubblica, la riorganizzazione dell'amministrazione, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la semplificazione dei procedimenti, la razionalizzazione, il controllo delle società partecipate, l'anticorruzione e trasparenza, sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale tutti i decreti attuativi dopo uno stop da parte della Corte Costituzionale che aveva giudicato incostituzionali alcuni articoli. Intanto, vediamo il decreto sulle sanzioni disciplinari. Si interviene sull'illecito disciplinare della falsa attestazione della presenza in servizio sui cosiddetti furbetti del cartellino. Per questi si prevede entro 48 ore la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il procedimento disciplinare che conduce al licenziamento si chiude in 30 giorni. È inoltre introdotta la responsabilità erariale per danno di immagine e la responsabilità disciplinare per il dirigente che non proceda alla sospensione, alla via del procedimento nei confronti del dipendente che ha appunto danneggiato l'immagine della pubblica amministrazione. Decreto invece sulla semplificazione. Il Consiglio dei Ministri potrà attivare procedure accelerate per gli investimenti strategici. Il taglio dei tempi burocratici riguarda tutte le procedure sino all'inaugurazione del sito produttivo. Decreto poi su modifiche al testo unico sul pubblico impiego e sulle stabilizzazioni che riguarda il fabbisogno di personale per cui la riforma prevede il superamento progressivo della dotazione organica attraverso un nuovo strumento chiamato piano triennale dei fabbisogni. Per quanto riguarda il personale a tempo determinato la riforma prevede una disciplina transitoria per superare il pregresso di vieto delle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa. Si prevedono inoltre procedure per assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso di determinati requisiti. La riforma prevede anche un percorso di armonizzazione fra i trattamenti economici tra i diversi comparti della pubblica amministrazione. Decreto poi su misurazione e valutazione della performance. Con questo decreto si introducono oltre agli obiettivi specifici di ciascuna amministrazione gli obiettivi generali della pubblica amministrazione legati ad indicatori misurabili e verificabili da parte dei cittadini. Quindi i cittadini possono valutare la performance organizzativa attraverso sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità del servizio. La valutazione negativa è presa in considerazione ai fini dell'accertamento delle responsabilità di licenziali e per l'applicazione del licenziamento disciplinare. All'interno di ogni pubblica amministrazione viene costituito un OIV, cioè un organismo indipendente di valutazione con la funzione di valutare e misurare la performance dell'ente. Il decreto invece Freedom of Information Act, il FOIA, prevede che i cittadini abbiano il diritto di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione anche senza un interesse diretto. Quindi il FOIA rivede il vecchio diritto di accesso della legge 241 del 90. Esiste poi un decreto sulla dirigenza pubblica.